Campagna vaccinale che procede, nonostante le intermittenze del caso, si guarda con speranza alla ripresa estiva, alle vacanze e alla voglia di normalità che passa attraverso un'esigenza, quella di ripartire. Avevamo chiesto ai vicentini da quale input, quindi dovrebbe riprendere quota la città messa a dura prova da chiusure di vieti. Cultura, mostre e turismo, gli aspetti più gettonati. C'è bisogno di ristori, riaperture e che la gente torni alla normalità. Le normalità intendo riaprite, fate lavorare la gente, fatela lavorare, in questa maniera qui ripartono le cose, altrimenti uccidiamo tutto e chiudiamo tutto. Avevo bisogno delle mostre, quella è stata una vicenza indimenticabile. Una ricetta rilancio che abbiamo riportato al sindaco Francesco Ruco, che ha colto e ampliato, svelandoci in anteprima cosa bolle in pentola per questo cantiere culturale, al momento in stand-by, ma trainante anche per incentivare l'arrivo dei turisti. Stiamo lavorando su una programmazione culturale che riguarda la prossima estate e già il prossimo inverno, con l'auspicio che i teatri possano essere funzionanti con le regole anti-covid e tutto. Speriamo che i vaccini consentano la possibilità di tornare all'interno dei teatri e stiamo lavorando anche su un progetto culturale che prevede una mostra importante, che lanceremo nei prossimi mesi, che sarà una mostra di livello internazionale da dicembre del 2021 fino all'aprile 2022.